In bimbo riflette sul campo basso da opporre alla magnifica salernitana di Carlo Perrone, 13 punti nelle ultime 5 partite. L'allenatore rosso blu sta pensando di evitare l'impiego degli under, sarebbe la seconda volta in 9 partite, un bonus infatti è stato già consumato in occasione di campo basso Ponte d'Era dello scorso 30 settembre. Le ultimissime indicazioni forniranno a in bimbo la risposta a tale interrogativo. Certo è che il tecnico rosso blu fa sfoggio di ardore alla vigilia della gara difficile della Rechi promettendo un campo basso aperto e all'arrembaggio, sicuro nel contempo che una squadra arroccata in difesa prima o poi sarebbe costretta a capitolare contro questa salernitana. Niente barricate dunque per un campo basso in deficit di punti e anche di qualche uomo importante. Per Forgione si tratta di distrazione al collaterale, il centrocampista dovrà stare fermo per un mese. Si sta sottoponendo a fisioterapia presso lo studio del dottor Domingo Marcos, collaboratore medico della società rosso blu che tenterà di rimetterlo in sesto anche prima del tempo previsto. Conate invece è stato operato proprio oggi a Bologna per una calcificazione tibiale. Ancora non si stima il periodo di riposo ma è verificato che il Colored già era abbastanza malconcio al suo arrivo in Molise questa estate. Lo scorso campionato infatti è stato fermo quattro mesi per un infortunio grave. La gara contro l'Aquila ha segnato qualche strascico a livello fisico. Molti di questi tuttavia sono sulla strada del completo recupero. Giuliano, il salvatore della patria di domenica, aveva avuto un problema alla spalla già risolto. Sarà regolarmente in campo a Salerno. Piccola contrattura per Minadeo, anche egli come Giuliano sarà sicuramente della gara. Infine Boi si è aggregato solo ieri al resto del gruppo ma potrà essere tra gli impiegabili della Rechi. La classifica del campo basso impone di fare punti prima del doppio turno interno contro la Mezzia e Martina, l'avversario prossimo dei Lupi, è tra i più in forma del momento e vanta giocatori di un altro pianeta come Molinari, ex Juve Stabia. Lo stesso brasiliano Gustavo Oguazzo, reduce dalla mancata serie B con la maglia del Taranto, ai play-off contro la Provercelli. Mancherà l'ex Gallipoli, Ciro Ginestra, squalificato per tre giornate dopo un parapiglia. Avvenuto nel dopo la Mezzia salernitana, l'attaccante sconterà contro il campo basso la terza e ultima giornata di fermo. La febbre del tifo sale in Campania, anche se il rapporto del pubblico con la presidenza Lotito non è dei più idilliaci. Incomiabile iniziativa del campo basso nella fattispecie della dottoressa Favi che in occasione dei dieci anni dal tragico terremoto di San Giuliano di Puglia ha chiesto e ottenuto dalla Lega Opro un minuto di raccoglimento prima dell'incontro. Salernitana e Campobasso sceneranno in campo vestiti di una maglietta bianca in cui campeggerà la scritta Gli Angeli di San Giuliano per non dimenticare. Il Campobasso non si è fermato qui, ha allargato infatti la richiesta di giocare con una maglietta bianca commemorativa a tutte le società di Lega Pro e alle società dei campionati molisani.